Ciao a tutti buongiorno e bentornata in questo video mia mamma è stata a New York e quindi appunto vi volevo farvi vedere cosa mi aveva portato prometto che avanzavo tantissime cose ho portato le cuffie per il tempo queste qua sono bellissime, ancora non le ho nemmeno aperte poi mi ha portato il cappellino questo qui ho scritto New York bellissimo ancora non le ho nemmeno provato e poi ho notato che c'è ancora il pezzo non l'ha tolto però va bene vado a portarlo questi arzini vestivi colorati ce le do rosa turchese diciamo tiffari azzurri giallo un po' acido diciamo sì vero acido e verdi se non mi sbaglio poi mi ha portato la maglietta questa qua nera classica con questa scritta spero che si veda e qui dietro c'è tutta la manica praticamente c'è l'inserto trasparente qui e poi ne ho portato il bicchierone come dicevo il bicchierone questo qua ovviamente si apre l'ho già usato e qui c'ha il diciamo cosa tecnicamente di solito loro ci mettono la camicia qua dentro solo che non c'entra vedete vieni comunque e ti ho portato da bere normale e poi ha portato anche la maglietta al mio ragazzo questa grigia questa grigia normale classica ho scritto in new york la bandiera bene ragazzi questi erano tutti i miei regali da new york quindi mi raccomando seguitemi anche su social snapchat twitter instagram facebook e andate a vedere anche la mia pagina facebook appuntanto trovate tutti i link aggiorno nell'info box mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti andate anche iscrivetevi anche al mio secondo canale dolce chicca cucina quando troverete sempre il link il link cliccabile giù nell'info box io vi mando un grosso bacione e ci vediamo al prossimo video ciao ciao ciao